Con la manovra sanitaria varata da Roma, anche la Calabria è costretta a rivedere i suoi piani a partire dalle 900 assunzioni programmate dalla struttura commissariale. Scura e Rubani hanno calcolato che costeranno da 15 a 20 milioni. Unita ai tagli nazionali e ad altre voci di spesa, provocherebbero uno sforamento di 60 milioni, con sanzioni gravissime. Dal 2011, riferisce Scura, le aziende sanitarie non hanno rendicontato le spese sostenute per gli obiettivi di piano per oltre 100 milioni. Ieri è stato deciso di vincolare le assunzioni alla rendicontazione. Scura calcola poche settimane di ritardo. Intanto, la Fimmig Medici di Famiglia annuncia che diserterà l'incontro di domani con il commissario. Il presidente della regione Calabria, Mario Liverio, ieri a San Pietro Ammaida per la festa dell'unità, ha ammesso che i rapporti con Scura non sono buoni e ha invitato il commissario a liberarsi del protagonismo. E intanto, slitta anche l'Assemblea regionale del Partito Democratico calabrese, prevista per domani.